ciao oggi sono venuto qui alla parete di pegnar nella provincia di granada questo è il settore castiglio sotto il castello proprio delle rovine di un castello molto bello qui a pegnar ci sono un centinaio di tiri tra cui questo è il settore del castiglio che c'ha una 35 tiri più o meno che vanno dal 6b all'8b più sicuro e poi sono due progetti molto duri come potete vedere le linee sono belle sostenute poi ci sta un altro in un altro settore detto modesto ci sono i gradi più facili che sta un po più giù cioè dicono castello e modesto per realtà sono tutte e due sotto il castello il castello è bellissimo perché sta in un cupuzzo dove probabilmente sopra questo paese che è la pegna molto isolato e si sono tutti i campi le vie sono chiudate abbastanza bene la roccia è buonissima soprattutto sulle parti strapiombanti su le vie più facili quello che prodotto di quel settore del castiglio non è ottimale viene dato come settore estivo però secondo me fino a mezzogiorno dopo è vero che non c'è il sole fino alle 6 le 7 però comunque è caldo almeno oggi è stato molto caldo per scalare sopra certi gradi comunque bisogna avere la temperatura buona che sia fresca convinto che essendo più in montagna sarebbe stato più fresco in realtà era più fresco nella zona di malaga posto andalusia stupendo basto detto tutto un'ora e 40 da malaga mezz'ora da granada alla prossima un'altra volta un'altra volta Grazie a tutti